Non è che le marco le gotte delle bigliette. Beh, bu, sì, se lo vuole. Eh, grazie, però. Vai, vai. Sì, c'è la carà. Sì, c'è la carà. Adio. Sì, c'è la carà. C'è la carà. I salventi viaggiavano qua, anche questo era un sedido, guardate. No, legati a... Comunque, questa è la galleria che hanno fatto e cose. Comunque, come erano... Deve che è? Eh, sì, ma come è che è, ma come è che è. La galleria è... No, ma come è che è la galleria? No. No. Non è che è... Lo male che mi sta piacereggere. Grazie.